Dobbiamo solo dare il nostro amore a chi lo vuole, stare in pace anche se non si è dove, ci piace, capire se è il momento di parlarsi sotto voce, fuori c'è luce, poi buio, poi ancora luce, tutto quanto accade in modo rapido e veloce, tutto quanto accade in modo così naturale, a volte ci fa star bene, a volte ci fa star male, vale la pena di evadere, senza avere regole come le favole, senza la paura di sentirsi inutile. Il suo amore deve parlare nella propria lingua, il racconto della torre di Babele e la mescolanza delle lingue e le persone che per superbia rischiano di non comprendersi più. E poi arriva il messaggio di Gesù, troppo potente e dirompente per restare in Galilea, e con il messaggio arriva il dono dello Spirito Santo agli Apostoli, che lo fanno arrivare in tutti gli angoli della terra. L'amore che batte barriere della superbia e dell'egocentrismo, e non c'è bisogno di traduttore per comprendere o farsi comprendere, a volte bastano poche parole, a volte un'azione, in altri casi basta solo esserci, con una presenza silenziosa. Siamo stare uniti ma distanti, anche se spaventati, dai giorni che sono più brutti, preghiamo per i nostri sogni, tutte le notti, tutte le notti, nei nostri sogni c'è un po' di realtà, abbiamo negli occhi la luce della libertà. Al di là delle montagne, dei fiumi, dei mari, restiamo ciò che siamo, semplicemente esseri umani, semplicemente qualcosa di stupendo, qualcosa di orrendo, qualcosa che a volte non comprendo. Ma so che c'è qualcuno che mi sta ascoltando, e so che lassù qualcuno sta guardando proprio me, e se lo sta facendo ci sarà un perché. Ma so che c'è qualcuno che mi sta ascoltando, e so che lassù qualcuno sta guardando proprio me, e se lo sta facendo ci sarà un perché. L'impegno cos'è, se non cercare di essere degno, per questa vita è normale voler dare il meglio, sotto lo stesso cielo, stessa rabbia, stesso mondo, lo stesso modo di dimenticare in un secondo. O di guardare sempre indietro ogni singolo giorno, finché non è il nostro turno, non saremo di ritorno, dal viaggio che ci tiene in pugno e che ci rende simili, tutti con la stessa paura di essere inutili. Ma so che c'è qualcuno che mi sta ascoltando, e so che lassù qualcuno sta guardando proprio me, e se lo sta facendo ci sarà un perché. Ma so che c'è qualcuno che mi sta ascoltando, e so che lassù qualcuno sta guardando proprio me, e se lo sta facendo ci sarà un perché.